I diari segreti di Romulo Nel cuore di una luminosa giornata, mentre le ombre si allungano e le case si rimpiccioliscono sotto l'azzurro del cielo, c'è un mistero che attende di essere svelato. La S.O.P. Opera Pomeridiana Spagnola, La Promessa, trasmessa su Canale 5, ha rapito l'attenzione di molti, me compreso. L'ansia di scoprire ogni singolo dettaglio mi ha spinto a cercare risposte e la squadra investigativa della rete ha lavorato incessantemente per svelare i segreti celati dietro le pareti del palazzo protagonista della storia. Il vero cuore di questo enigma è il vecchio diario del Maggiordomo Romulo. Questo libro, testimone silenzioso degli eventi, conserva le trame intricante che tengono tutti noi incollati allo schermo. Ogni pagina è una finestra sul passato, un racconto dettagliato di intrighi, amori e tradimenti. Le sue pagine ingiallite narrano storie che hanno plasmato il destino dei personaggi che tanto amiamo. Immaginate la fortuna di noi, fedeli telespettatori, nel poter immergere nei contenuti preziosi di questo diario, rivelando segreti che cambieranno il corso della nostra amata S.O.P. Opera. Nella penombra di una stanza, illuminata solo dalla luce fioca di una candela, le parole echeggiano misteriose e cariche di tensione. Il primo video sul diario di Romulo è pronto a svelare uno dei segreti più oscuri e profondi della S.O.P. Il diario rivela la figura di Don Juan de Inaja, un uomo il cui passato è avvolto in ombre e misteri, e Romulo, il fedele Maggiordomo, è stato testimone di ogni momento, di ogni peccato nascosto. La Marchesa Donia Cruz, con la sua aura misteriosa e inconfondibile, sembra voler proteggere la memoria di questo uomo, quasi come se temesse la verità che potesse emergere. Nell'ombra dei ricordi, il barone de Lujan emerge come una figura complessa, le cui azioni e decisioni hanno gettato lunghe ombre sul suo nome. La sua storia, un tempo celebrata, è ora velata da una serie di azioni e segreti che svelano un uomo molto diverso dall'eroe di cui molti parlavano. I diari antichi e ingialliti narrano di Don Juan de Lujan, non solo come un navigatore audace e un leader carismatico, ma anche come un uomo coinvolto in oscuri traffici. Le acque turchesi dei Caraibi, che una volta sembravano nascondere solo tesori e avventure, sono diventate il palcoscenico delle sue operazioni illecite. Le testimonianze raccolte parlano di traffici di schiavi, dove le vite di molti sono state comprate e vendute come semplici merci, trasportate tra le isole lussureggianti e il cuore pulsante della Spagna. Ma la sua fame di potere non si fermava qui. Le donne, con i loro occhi carichi di speranza e desiderio, diventavano prede nelle sue mani. Per Don Juan, esse non erano altro che pedine da muovere in un gioco di intrighi e desideri. Le sue relazioni erano dominate da un senso di proprietà, un desiderio di controllo che trasformava l'amore in una gabbia dorata. E mentre le pagine dei diari si srotolano, rivelano trame ancora più oscure e inquietanti. L'ombra di figli illegittimi, nati da amori clandestini e passioni incontrollate, aleggia nell'aria. Ogni sguardo, ogni sospiro potrebbe nascondere la verità su quanti segreti ha portato con sé Don Juan de Inaja e quanti discendenti siano destinati a portare il peso del suo nome controverso. Il diario di Romulo potrebbe rivelare informazioni cruciali che modificheranno drasticamente la percezione pubblica di Don Juan de Inaja. Queste informazioni avranno un impatto diretto sulla struttura e la dinamica del palazzo e sulla vita di coloro che vi risiedono. In un contesto più preciso, durante una delle molte serate invernali, le pagine di questo diario potrebbero offrire dettagli specifici e documentati sulle azioni e le decisioni di Don Juan. La relazione tra Don Juan de Inaja e la sua amante cubana è stata molto più di un semplice legame affettivo. Ha rappresentato una complessa intersezione di emozioni, decisioni e segreti. Tra le mura di una dimora nascosta, lontana dagli occhi scrutatori del mondo, i due amanti hanno tessuto una rete di emozioni, promesse e sogni condivisi. Non era solo una storia di lussuria, ma un amore vero e profondo, un legame che ha resistito alle tempeste del tempo e alle sfide dell'esistenza. Questa relazione, che si è sviluppata tra le mura del palazzo, ha avuto un impatto significativo sulla dinamica interna e sulle relazioni tra i vari abitanti. La natura di questa connessione ha spesso creato tensioni, generando discussioni e speculazioni tra coloro che erano a conoscenza di essa ed ha atturbato le acque tranquille del palazzo. Da questo amore proibito è nato Leandro, un giovane con gli occhi carichi di mistero e il cuore pulsante di desiderio di conoscere la sua vera identità. Ma il destino ha sempre un prezzo e per Leandro la strada è costellata di ostacoli. La grande domanda che ha legge nell'aria è se Leandro potrà mai rivendicare la sua eredità, se potrà mai affermare con orgoglio il suo titolo di uomo di linea, ereditando il legato e il peso del nome in Asia. Con il diario di Romulo come guida e il passato che bussa alla porta, Leandro è determinato a scoprire la verità, a navigare nelle acque torbide della sua storia familiare e a trovare il suo posto nel mondo. La sua ricerca potrebbe rivelare verità nascoste, segreti sepolti e, forse, un futuro inaspettato che lo attende. La tensione nel palazzo è palpabile, quasi avvolgente. Le trame e le alleanze si intrecciano in un intricato balletto di potere e segreti. Kruz, con la sua determinazione inalterabile, ha espresso chiaramente al capitano Lorenzo la sua volontà di non arrendersi. Un brindisi in onore del nipote, seppur fatto con un sorriso finto, è la sua mossa strategica per consolidare la sua posizione. Ma Kruz non è l'unica con una strategia ben delineata. Il diario di Romulo, con le sue pagine logore e i segreti celati, potrebbe essere la chiave per ribaltare il destino. La prova dell'esistenza del figlio illegittimo di Don Juan Ezequerdo è lì, scritta in inchiostro indelebile, insieme ai dettagli dei pagamenti effettuati per assicurare il suo mantenimento. Una prova tangibile di una verità che, se rivelata, potrebbe scuotere le fondamenta del palazzo e cambiare il corso della storia di molte vite. Nell'epopea di segreti e intrighi emerge l'ombra del fratellastro cubano di Donia Kruz, una figura enigmatica, una tessera mancante nel puzzle complesso della sua storia. Con il primo video del diario segreto di Romulo, una luce inaspettata viene proiettata su questa figura misteriosa. Ma Kruz, sempre un passo avanti, ha forse un asso nella manica, una mossa finale che potrebbe rivelare o nascondere la verità definitiva. Nel palazzo, la rivelazione del diario di Romulo ha gettato una luce inaspettata sul passato oscuro di Don Juan Ezequerdo. L'esistenza del suo figlio illegittimo, documentata e autenticata, potrebbe essere la chiave per alterare il destino di molte generazioni. In un'epoca in cui i test del DNA erano ancora un miraggio lontano, la parola scritta e le testimonianze personali erano le uniche prove tangibili. E ora, grazie al primo video del diario segreto di Romulo, una nuova figura emerge dall'ombra. Il fratellastro cubano di Donia Cruz, una rivelazione che potrebbe scuotere le fondamenta del palazzo e mettere in discussione la linea di successione e il titolo di Uomo di Linea. Cruz, astuta e sempre un passo avanti, sembra avere un asso nella manica, una mossa finale che potrebbe cambiare tutto. Il palazzo è in attesa, in un silenzio carico di anticipazione e speranza. Iscriviti ora al canale per scoprire i segreti dei diari segreti di Romulo.